Poi D'Antoni, Regonesi, la controtraversione, lo stacco di testa e gol del Rimini con Michele Rinaldi! Gol del Rimini con Michele Rinaldi! Ancora lui, due gol nel giro di quattro minuti perché siamo al terzo di Giulianova Rimini! Aveva segnato il novantatresimo della gara con il Verona, ancora Michele Rinaldi va a sbloccare il risultato, in questo caso 1-0 per il Rimini. E ora sentite, ovviamente il tifo bianco-rosso, partita che si mette sui giusti binari per il Rimini. Pronto intanto, Regonesi mette in mezzo lo stacco di testa di Lebran! Gol di Lebran! 2-0 per il Rimini! Fabio Lebran! 2-0 per il Rimini! Fabio Lebran! Ha impattato di testa, questa volta l'altro centrale difensivo del Rimini! Allora, al gol di Rinaldi, al terzo del primo tempo, si aggiunge quello di Lebran al venticinquesimo della ripresa, Giulianova 0-0, Rimini 2!